buongiorno ragazzi benvenuti in questa nuova clip che vi sto facendo da un'isola che si trova a sud di osorno pochi giorni fa avevo mostrato la piazza principale di osorno dove poi ritornerò solo per una giornata e successivamente di rigermina argentina però quest'oggi ragazzi voglio mostrarvi qualcosa di particolare dietro di me potete vedere un monumento neanche molto attrattivo onestamente però per quanto mi riguarda a un qualcosa di particolare chi mi segue tanto tempo sa benissimo che dopo aver viaggiato in cargo per quasi un mesetto dall'australia fino agli stati uniti fino alla california esattamente sono andato verso nord sono arrivato in alaska e qui ragazzi è la fine della pan americana qui all'isola di ciloe esattamente a ito sero si trova la fine della pan americana il torino e potete vedere il mare qui è l'ultimo pezzo di strada asfaltata il monumento con i quattro punti cardinali e questo ragazzi è il cartello che dice esattamente quello che ho appena detto questo è un monumento simbolico che rappresenta la fine o l'inizio della strada pan americana che da anchorage alaska arriva fino a cayon cile per più di 21 mila chilometri nel continente americano per me questa è una grandissima gioia non mi fermerò quando sono assolutissimamente intenzionato a finire qui il mio viaggio in sud america ho ben altre aspettative ho ben altre cose in testa e vi spiegherò tutto a tempo debito però questo devo dire che è un gran modo per terminare questa strada mitica questa strada famosa che si interrompe solo tra panama e colombia nel darien gap adesso vi faccio vedere un attimo nel luogo vi faccio vedere anche il mare sono emozionato perché comunque qui si parla di quasi due anni di viaggio gli ho visti tutti quei posti dove taglia alla pan americana alaska canada stati uniti messico guatemala honduras el salvador che si continua nicaragua costa rica ecuador perù il cile quindi oggi ragazzi voglio mostrare il luogo dove finisce dove di fatto finisce la strada pan americana questo monumento che ho fatto vedere già all'inizio video il cartello sono veramente molto a sud e come potete vedere c'è gente a mezze maniche tutti sono fuori dall'aria aperta questo significa che la primavera ragazzi sta arrivando e non avete idea di quanto mi faccia facere questo perché poi io dirigendomi sempre verso più sud incontrano magari delle situazioni un po più difficili da gestire però però sono molto fiducioso perché del tempo sta arrivando questo momento sono entrato nella spiaggia ragazzi il paesaggio è completamente cambiato nell'ultima settimana da grattacieli metropolitane strade a destra e sinistra mi sono immerso nel verde e nella natura incontaminata che quello che mi piace veramente sono stato a santiago del cile come avevo già detto solo per motivi di organizzazione e non per piacere questa è la spiaggia bellissima per farci un paio di camminate qualche chilometro rilassarsi ascoltare le onde del mare ed è veramente una bella sensazione come una bella sensazione quello che ho detto poco fa il fatto di essere riuscito ad arrivare dall'alaska perché sono addirittura partito più in alto di anchorage sono partito da firebanks chi se lo ricorda dove ho visto l'aurora boreale dove ho scattato le foto l'aurora boreale e dopo di che è iniziato il mio viaggio super lungo e che ancora non è terminato per il sud america resterò qui giusto un paio di giorni ci lo è per andare a vedere quanto l'ho detto prima domani già mi muoverò per andare appunto a verificare di persona la bellezza del parco nazionale e per andare a vedere la cittadina che si chiama castro dove alloggio c'è solo un unico ostello in questa cittadina potete tranquillamente cercarlo in booking e luogo che vi risulterà più economico esattamente all'ostello dove in questo momento sto alloggiando camera condivisa bagno condiviso cucina condivisa tanta buona gente da tutte le parti d'europa ma non solo per cui è un luogo che mi è già piaciuto anche se comunque l'ho vissuto per poche decine di minuti perché come sono arrivato mi sono buttato in strada per prendere due pullman uno che ho pagato 2000 peso cileno che da castro mi ha portato fino a che ion 2000 peso cileno si sta parlando di poco meno di 3 euro e poi da che ion fino a qua fino a chitto zero e pullman l'ho pagato 400 peso cileno 50 centesimi di euro per cui con meno di 10 euro da castro potrete arrivare a vedere la fine della panamericana altro discorso poi da osurno fino a castro dove il prezzo del biglietto l'ho pagato 8 mila peso e comprende anche un viaggio in battello perché comunque tra la terraferma e questa isola bisogna prendere un battello molto interessante che con un giorno come questo vi permetterà di vedere tutte le montagne innevate tutta la cordigliera ed è qualcosa di veramente emozionante pullman ce ne sono tantissimi ho pagato 8 mila peso se credo che sia la compagnia più economica questo è quanto amici dalla fine della leggendaria strada panamericana è tutto ci vediamo in argentina ciao amici